buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo episodio dello scontro dei mondi oggi l'episodio mi è stato richiesto da blade runner red che mi ha detto in questo scontro mortal combat contro DC Comics di fare Joker di nuovo protagonista contro Raiden il dio del tuono del regno esterno ovviamente difficoltà difficile abbassiamo sto coso e partiamo subito con questo incontro mi sembra giusto di farlo in casa mia caro Raiden sei piagato da una terribile depravazione e allora chiama un dottore per Giove neppure gli dei antichi riuscirebbero a risalarti avvio a dei antichi dei anziani ma come si chiamano può far bacco questi qua ho già sentito tanti tanti nomi e sinceramente tutte le volte io non capisco sono dei anziani sono dei antichi so soltanto che sono delle divinità e come tutte le divinità come te tra l'altro cadrai ai miei piedi perché io sono re del crimine caro Raiden sarei venuto anche in questo regno ma sono io qua che comanda quindi stati tanto tranquillo Raiden per cortesia ti sto facendo vincere in questo scontro ricordati che fanno molto male ma molto molto male le caramelle soprattutto se te le dà uno sconosciuto perché io sono matto col botto sì sì caro Joker io sono davvero aio ai che dolore ti consiglio di ritirarvi no no io non mi ritiro assolutamente caro Raiden hai capito hai proprio sbagliato di grosso io non sono un tipo che si tira indietro dinanzi a nessuna battaglia brutto malandrino di uno Raiden io non so come ci si comporta nel regno esterno io so solo che qua se sono diventato quello che sono è per merito di tutte le mie nefandezze cose brutte robe soprattutto che ho fatto in questo mondo assaggia il mio potere ancora una volta Raiden sei colpevole di nuovo ciao ciao Raiden o devo dire dio caduto del regno esterno Raiden maledizione crepa dinanzi al re del crimine vittoria di Joker super mega vittoria del Joker che in questo scontro Mortal Kombat contro DC Universe ha avuto ancora la meglio ci vediamo al prossimo scontro sperando di mettere ancora molte molte più vittime ah 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 ciao 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 Grazie.